Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie con qui in studio insieme a noi Walter Cherubini, Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Allora Walter, qui sulla nostra scrivania, sul nostro tavolo abbiamo una mappa, una mappa interessante con... Io vedo tanti comuni segnati su questa mappa, un grosso comune chiamato Corpi Santi e poi tanti altri 11, mi sembra, piccoli comuni intorno. Che cos'è questa mappa? Nell'ambito delle iniziative che sono state promosse in questo passato 2023 è stato dedicato al centenario degli antichi comuni milanesi, cioè tutti quei comuni, 11 in particolare, che vennero aggregati all'allora comune di Milano che sostanzialmente è la città di oggi che si estende per un po' più di 181 chilometri quadrati. Abbiamo dedicato l'anno scorso appunto al centenario degli antichi comuni perché è stata un'occasione per fare una riflessione e prendere anche visione odierna di come si è evoluta la nostra città, il nostro comune di Milano. Stiamo parlando dell'amministrazione comunale, diciamo così, dal 1873 perché in quell'occasione ci fu una prima aggregazione. Il comune di Milano, che era esteso per un po' meno di 9 chilometri quadrati, aggregò il comune dei Corpi Santi. Il comune dei Corpi Santi è una ciambella intorno all'antico comune di Milano e poi con alcune propagine che si estendono a sud fino a Rozzano e poi a est fino agli attuali confini comunali, portando l'estensione territoriale a 76 chilometri quadrati. Ma il cambiamento sostanzioso fu proprio nel 1923 quando vennero aggregati 11 comuni preceduti dall'aggregazione del comune di Turro nel 1918, appunto degli 11 comuni con termini che vanno dall'Ovest di Milano, Baggio, Trenno, Musocco, Afforini, Guarda, Gorla milanese, Greco milanese, Gorla precotto, Crescenzà, Golambrate e poi per scendere a sud-est con Chiaravalle milanese e Vigentino. Questi sono i comuni. Allora, ci sono due temi che ci siamo accorti... Anzi, il 2023 è stata l'occasione per certificare questa cosa che i milanesi non conoscono Milano. E festeggiare questo compleanno di questi comuni che adesso sono... Come ha detto qualcuno, più che un compleanno da un certo punto di vista è la memoria del caro estinto perché invece il centenario, diciamo così, è quello delle periferie ma poi avremo modo di parlarne perché è il caro estinto del 1923, Baggio piuttosto che Chiaravalle milanese che avevano il loro sindaco comune eccetera eccetera quindi il sindaco di allora si occupava di qual era la sua priorità Chiaravalle piuttosto che Baggio. E vedendo su una cartina effettivamente sembra una cosa normale perché appunto è come se adesso noi vedessimo il nostro comune di Milano con Cisano Boscone, con Cornareggia, tutte quelle città, tutti quei comuni che giustamente nessuno adesso dovrebbe pensare no se qualcuno ci pensa però nel senso nessuno storce il naso qui effettivamente noi vediamo una Milano leggermente più piccola con tanti comuni che vivevano sereni e contenti insomma non tanto contenti, non tanto sereni magari più o meno Allora, sereni o contenti dipende Sì, mi ricordo che abbiamo fatto nelle nostre puntate in giro abbiamo sentito che alcuni comuni che insomma non navigavano in buone acque spingevano per essere presi altri invece che stavano bene felici e contenti Un pochettino così la narrazione storica racconta che il sindaco di Greco Milanese che venne appunto il comune di Greco Milanese venne aggregato e era attivo come finanze e allora il sindaco fa oi mi raccomando però ce li restituite quei soldi e dicono che stia ancora lì ad aspettare la restituzione dei soldi di bilancio che aveva dato quindi dipende un pochettino dalle condizioni per esempio noi prendiamo Gorla e Precotto Gorla e Precotto fino al 1920 erano due comuni distinti ma proprio perché ormai era da lustri che si parlava di possibili aggregazioni dei comuni limitrofi a Milano ma Gorla e Precotto non volevano essere aggregati e quindi pensarono di aumentare la loro potenza aggregandosi unendosi tra di loro ma la cosa non ebbe non ebbe un risultato sperato ecco perché è importante questa cartina la facciamo vedere anche così come come la trovate in giro questa cartina che è cartografia cartoguida di Milano perché diciamo sempre di portare anche giovani ragazzi che cominciano la carriera giornalistica mettiamo così la prima cosa che noi suggeriamo ce l'avete la piantina di Milano perché un conto è andare su internet e cerca la via tal dei tali ma se non la contestualizzi in un luogo eccetera vuol dire che ti perdi quella che è la dimensione della realtà cittadina realtà cittadina e noi lo vediamo cambia l'isolato cambia la situazione abbiamo col centro studi periferie mappato 166 toponimi diversi dai confini comunali dai confini comunali fino alla cerchia dalla 90-91 noi qua vediamo sempre Affori per noi è un quartiere ma qui era ben più grande dell'attuale quartiere di Affori dentro lì chissà quanti toponimi ci sono oltre ad Affori esattamente potremmo entrare poi in tutto il mio taglio non è l'occasione di questo anche perché vorremmo parlare nell'occasione adesso dato questo quadro poi se noi andiamo dalla cerchia della circonvallazione fino ai limiti del vecchio comune di Milano la zona 1 troviamo altri 53 toponimi siamo un po' meno confidenti per quanto riguarda il centro cittadino 20 toponimi risultato 239 239 che sono un pochettino l'abc della città e per certi aspetti noi guardiamo più ai 166 periferici perché sono quelli che sono sostanzialmente sconosciuti quindi noi abbiamo diciamo sempre l'abc è a come assiano b come basmetto c come cavriano eccetera 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 se almeno non sappiamo che esiste assiano non sappiamo nemmeno se noi che tutti quanti paghiamo un po' le tasse versiamo qualche soldo per ripulire dalla discarica abusiva a siano che normalmente qualche residente a Milano ma anche qualche residente esterno butta lì roba di come dergano e non mi viene fra il mente non ce l'ho non ce l'ho possiamo andare porteremo l'elenco in un'occasione potremmo fare un elenco perché è abbastanza perché è esattamente questo proprio l'abc della città ecco questo però è stato diciamo la commemorazione il caro istito come dicevi tu appunto del 2023 però avete invece iniziato il 2024 con una iniziativa interessante cioè in questi comuni in questa zona periferica della città di Milano nelle periferie della città di Milano ci sono realtà che sono da cento anni e più perché ci sono alcune ben più vecchie di cento anni che lottano insieme a noi cioè continuano a lavorare continuano a esistere e a fare il loro mesterno in vario modo esattamente magari anche a soccorrerci anche a soccorrerci da questo punto di vista c'è un tavolo periferie Milano che si riunisce mensilmente ospitato dalla presidenza del consiglio comunale di Milano allora abbiamo cercato di dare un apporto specifico in questo diciamo 2023 per questo centenario allora facciamo il 7 di marzo 2023 un primo convegno in Sala Alessia Palazzo Marino un convegno un po' di taglio geografico amministrativo e cioè l'evoluzione di Milano che ho cercato un attimino di indicare prima quindi da 8 km quadrati a 76 fino a 181 chi c'era chi non c'era eccetera dopodiché a conclusione un pochettino ritardata e quindi debordata in questo inizio 2024 in particolare al 21 febbraio scorso a Palazzo Reale abbiamo fatto un convegno riconoscimento diciamo così centenario sociale cioè bene se quello era il territorio siccome si parla di milanesità di tradizione di identità e quant'altro ma dove la andiamo a recuperare questa identità tradizione e così via ce l'andiamo a inventare la leggiamo su libri di storia che peraltro tanti autori locali abbiamo mappato un centinaio di libri quindi c'è possibilità di documentazione e che dovrà essere fatto anche a livello scolastico crediamo perché appunto è a livello scolastico che manca l'insegnamento di 50 anni di storia di Milano 1873 1923 che manca proprio non è insegnata proprio nella sua complessità allora abbiamo detto bene ma ci sono delle realtà che esistevano prima del 1923 in questi territori esterni all'antico comune di Milano ma che ci sono ancora oggi allora questi possono essere esattamente il riferimento vivente di questo portato di identità di storia eccetera di contributo alla città nel suo sviluppo e quindi abbiamo siamo andati a individuare una serie anche un po' di categorie che abbiamo un po' incasellato in categorie quindi ci sono una serie di realtà diciamo così dell'abitare in totale abbiamo detto quante sono? 83 83 poi qualcuno magari cessato proprio all'ultimo momento qualcuno che abbiamo trovato perché non c'è una mappatura d'altronde ne parleremo il prossimo centenario e quindi abbiamo detto ma chi non c'è perché c'è stata appunto una consegna di attestati del comune di Milano a tutte queste realtà ma io non posso partecipare non si preoccupi fra cento anni saremo ancora qui a incontrarti fra cent'anni diciamo che stiamo facendo però hanno partecipato a questa iniziativa promossa dalla presidenza del consiglio comunale e dal tavolo periferie Milano abbiamo invitato anche a essere compartecipi più che invitati a essere compartecipi i presidenti dei municipi ok perché è fondamentale dal punto di vista anche storico ma anche organizzativo quei comuni che sono stati eliminati dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa comunale questo qui è stato il grosso cambiamento del 1923 dove c'era un'amministrazione territoriale che si curava del proprio territorio ed è andata invece persa ed è stata eliminata gli attuali municipi preceduti dei consigli di zona sono esattamente il tentativo di restituire l'amministrazione a questi territori è un tentativo che è rimasto come tentativo che dovrà essere implementato ma ne parleremo del 2024 e quindi c'è stato anche per esempio al municipio 7 ha radunato tutti questi centenari e poi anche chi ha avuto il riconoscimento del premio alla vertu civica panettone d'oro le botteghe storiche anche perché l'idea di fondo era quella noi viaggiamo un pochettino per categorie per settori ecco invece chiamiamo raccolta tutti quelli che normalmente non si incontrano perché io mi occupo di sport tutti occupi di botteghe tutti occupi di assistenza e quant'altro e non ci incrociamo mai invece quello lì è proprio bene noi stiamo attenti al territorio e a quello che c'è sopra quindi ci sono questa ottantina di realtà per cui ci sono le cooperative abitative a proprietà indivisa abbiamo delle realtà enormi come la cooperativa abitare nel nord di Milano che gestisce 2700 appartamenti e c'è anche da imparare nella gestione degli spazi c'è il teatro il doposcuola tante altre attività dopodiché abbiamo anche le realtà artistiche le realtà artistiche noi possiamo pensare per esempio alla banda di Crescenzago piuttosto che alla banda d'Affori che sono tutte preesistenti al 1923 dopodiché possiamo parlare delle attività anche scolastiche scolastiche abbiamo realtà enormi come il Politecnico di Milano che è dal 1863 ma abbiamo anche dal 1875 in quel di Figino antico comune di Trenno per cui siamo all'estrema propagine ovest del comune di Milano con l'istituto delle suore figlie di Betlem quindi addirittura per allargare una strada hanno ceduto anche un pezzo di terreno perché fino a qualche anno fa per arrivare a Figino o passavi tu o passavi quell'altro e oggi c'è una strada abbastanza ampia oppure ci sono quelle assistenziali assistenziali pensiamo per esempio al pane quotidiano ma anche la croce verde Sempione che si chiamava una volta Musoco piuttosto che alla croce verde di Baggio oppure anche a Chiaravalle milanese c'è una realtà un po' specifica che è quella che è legata all'abbazia di Chiaravalle ma a quello che è il monastero di Chiaravalle pluricentenario è quella quella è pluricentenario dal 1300 erotti e quindi ci sono quindi tutta una serie di realtà che oggi sono ancora lì oppure anche le realtà sportive le realtà sportive pensiamo che forse una tra le più vecchie realtà sportive è la Mediolanum società di educazione fisica Mediolanum che oggi opera in quel di Figino da cui è nato il Milan per esempio oppure abbiamo le Cannottieri oppure abbiamo anche delle società calcistiche la l'Alfa e l'Enotria ecco questo per dare un panora e poi abbiamo queste sono abbastanza articolate come un attimo il bello della diretta intanto è sempre ricercato il buon Walter ricercato dalla questura no spero di no spero di no e scusate e quindi ci sono poi tutta una serie di attività imprenditoriali attività imprenditoriali come strutturate tipo la la Pirelli che oggi non fa più impresa ma sicuramente la Bicocca ancora il suo quartiere generale ma piuttosto che la Zaini cioccolato e poi abbiamo 40 botteghe negozi no dalle dalle trattorie e diremmo che le trattorie hanno una specificità perché ce n'è una che data dal 1292 1292 ecco poi avremo modo anche la seconda trattoria più antica d'Europa la seconda trattoria ancora operante in Europa ce n'è una ancora più vecchia però dal 1200 oppure abbiamo anche delle imprese tipo la Fornace Curti che data come origine nel 1400 mano a mano si è spostata oggi è in via Walter Tobagi e quindi diciamo nella zona della Barona ecco allora questa è un po' una radiografia di queste realtà che hanno sicuramente un portato e sono significative per la nostra città ma possono essere anche occasione pensiamo le botteghe artigiane si dice che oggi non ci sia più artigianato che ci sia difficoltà ecco ma in primo luogo perché non c'è la conoscenza quindi noi dobbiamo proprio cercare di conoscere questo tipo di realtà e dopodiché uno potrà fare delle scelte altrimenti pensiamo che le attività siano quelle del software punto ma non si mangia con il software anche si mangia con il software chi ci lavora eccetera è un servizio sicuramente grande però c'è una dinamica molto più ampia ecco quindi che l'iniziativa è stata proprio per questo centenario sociale per fare una radiografia e mettere sul sul piatto a conoscenza della città ma anche dell'amministrazione cioè chi in questo momento svolge un ruolo perché come hanno fatto a resistere questi cento anni miracolo a Milano e diciamo che per alcuni l'abbiamo visto anche ieri sera appunto nel municipio 7 in questo in questo incontro con i consiglieri del municipio 7 dove fa ma come avete fatto a resistere e c'è sempre questo tema latente della burocrazia il tema latente della burocrazia dove viene sempre riesumato ma poco affrontato il sindaco l'ha detto miliardi di volte però l'ha detto basta effettivamente non è poi entrato nel cercare di scardinare un po' alcune cose o comunque almeno spiegarcele meglio perché dobbiamo per forza questa burocrazia ma la cosa interessante è come hanno reagito queste realtà quando le avete detto guardate ma sapete che c'è cento anni di eccellenza allora dobbiamo dire che appunto questo convegno incontro del 21 febbraio erano tutti contenti dove ci sono state delle brevissime relazioni che hanno un pochettino cercato di spiegare il motivo di questa iniziativa e però vabbè quando uno riceve un riconoscimento da parte del comune di Milano diciamo che non è tranne rare occasioni ma poi generalmente è abbastanza contento non è la cartolina verde delle multe come in Milano che quella non è mai contento quando arriva ma appunto la logica non è quella vabbè ti diamo un riconoscimento e poi arrivederci e grazie è proprio cercare di comprendere e affiancarci a questa realtà perché queste hanno contribuito alla vita di Milano non a parole ma con i fatti è la stessa logica che spesso tu metti anche sugli amborgini d'oro cioè dici bisogna bene il momento del festeggiamento bene il momento del riconoscimento ma poi non dimentichiamoceli ma se torniamo agli amborgini ma anche alle virtù civiche agli altri riconoscimenti che ci sono questi qui sono due significativi in maniera diversificata ma significativi cioè se noi riconosciamo che queste realtà hanno dato e continuano a dare un apporto significativo di Milano ma perché non li chiamiamo a raccolta in maniera però strutturata in maniera tale che anche quando chi fa delle scelte quindi il decisore cosiddetto che è il consiglio comunale la giunta e così via possa avere una visione più ampia perché i primi che non conoscono Milano come tutti gli altri perché se pensiamo ai 300.000 residenti stranieri a Milano su 1.400.000 residenti è chiaro che chi è che gliel'ha insegnata Milano nessuno ma se prendiamo quella fetta non enorme che sono nati in Milano vissuti in Milano magari hanno fatto anche le scuole a Milano chi è che gliel'ha insegnata la storia di Milano nessuno sostanzialmente quindi uno si trova a essere decisore non sapendo che c'è a Siano ma non è una questione milanese è una questione noi per imparare diciamo così per approcciare il tema delle periferie milanesi partiamo da Genova poi avremo modo di dire il perché come a Genova perché se non si conosce la città poi si decide sulla scorta di quello che uno conosce in maniera piuttosto empirica invece il comune di Milano è tutto il comune di Milano non solamente quello che ciascuno conosce e poi a seconda di spinte e controspinte si fanno un po' di cose avere una visione complessiva in primo luogo ci aiuta a utilizzare a conoscere utilizzare le risorse che ci sono sul campo per quello da questo punto di vista mettere insieme in maniera stabile queste risorse perché anche alla luce del loro vissuto possono dire guardate ci sono queste cose che possiamo sviluppare basterebbe fare così perché già lo facciamo piuttosto che invece ci sono queste regole che invece di aiutarci ci limitano la cosiddetta burocrazia e magari sono regole fatte 50 anni fa per una situazione completamente diversa da quella odierna noi pensiamo solamente alla realtà del volontariato pensiamo le croce verdi le croce verdi generalmente funzionano perché circa il 60% dell'attività è svolta da volontari stiamo parlando del primo soccorso cioè se arriva l'ambulanza e ci porti in ospedale altrimenti si va da un'altra parte e per questo anche che la croce verde Sempione che si chiamava Musocco negli anni 60 arrivava e la gente siccome Musocco per noi milanesi è il cimitero e allora arrivava lì la croce verde Musocco ma questi qui dove mi portano e allora allora abbiamo detto Sempione ha cambiato ecco per dire adesso questi sono degli aspetti diciamo così di immagine ma che sottintendono invece una realtà molto lunga Perfetto Walter siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento contro la Voltaimer si siamo arrivati alla fine io ti ringrazio tanto ancora grazie anche per averci portato ancora la cartina che ci terremo qua sappi tu non te la ridò indietro perché ci serve perché dobbiamo anche noi conoscere sempre meglio la città ci vediamo la prossima settimana con un altro appuntamento con Fox Periferia allora va bene? certamente grazie mille Walter grazie a voi grazie anche a tutti voi che ci avete seguito anche questa mattina sempre qui in diretta con Walter Cherubini Focus Periferia mi raccomando cercate su YouTube ritrovate tutti i pezzi dei nostri appuntamenti con Focus Periferia anche quelli più vecchi insomma tutte le 170 questa di oggi è la 176esima 176esima 200 dobbiamo fare una festa raccontata attraverso gli ospiti che ci sono stati numerosissime decine 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 che continueranno ovviamente a tornare anche nei prossimi appuntamenti grazie mille Walter grazie anche a voi grazie buona giornata e a presto